Sì, è a Legnano dove spera di imporsi Laurent Lanterie che dopo la buona esperienza, nonché la promozione al Mets, spera appunto di imporsi nel campionato italiano DC. Lanterie, da Legnano sei tornato in Francia, per un infortunio sei stato poco impiegato, però avete vinto un campionato dalla Serie B francese in Serie A, poi torni qui a Legnano per vivere un campionato di rilancio? Sì, perché l'esperienza che aveva fatto a Legnano quando ero in C2 mi ha molto piaciuto, ho deciso di tornare qua. Che cosa ti aspetti da questo campionato? Anche perché la Serie C1 quest'anno è composta da grossi nomi, quindi sarà una bella vetrina anche per te? Sì, sicuro per quello che sono venuto, anche perché io volevo giocare più di tempo sul campo e per tutto questo sono venuto qua a Legnano. In Francia che cosa si sa della nostra Serie C? Non troppo, perché in Francia la Serie C francese non è forte così, non credevo che in Italia sia una Serie importante, però ho parlato con Marco e mi ha detto che era buona qua. Quindi ti giochi molte chance di sfondare nel calcio proprio qui a Legnano, una bella scommessa? Sì, è per questo che sono venuto qua. Sì, è per questo. 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 Sì, è per questo.